Noi ci siamo focalizzati nel terzo capitolo del rapporto anche sulle amministrazioni dei cittadini in una fase particolarmente critica e ci siamo resi conto che nelle tre regioni che abbiamo analizzato cioè Puglia, Lombardia e Veneto c'è uno sforzo sia politico sia della burocrazia vera e propria di introdurre nuovi canali di comunicazione, quindi dare ai cittadini possibilità di intervenire prima che le decisioni vengano prese, di modo da alimentare la fiducia e anche rendere le politiche più partecipate. Il dato interessante è che in due regioni su tre, parlo in particolare della Puglia e della Lombardia in parte anche nel Veneto, i programmi politici avevano già una parte sostanziale di partecipazione Niki Vendola per esempio crea le fabbriche di Niki, Emiliano fa le sagre della partecipazione Zaia nel Veneto fa un sito web su quale i cittadini possono partecipare e quello di cui ci siamo resi conto è che poi nella fase di attuazione, quindi dopo l'elezione buona parte, una percentuale consistente di queste proposte è stata attuata. Grazie a tutti